tutto ciò che si manifesta è luce è un'espressione straordinaria questa per esprimere una realtà a cui non poniamo molta attenzione nel tran tran della nostra vita quotidiana ovvero il manifestarsi della luce se indaghiamo a fondo proprio il fenomeno della illuminazione ci possiamo rendere conto come nessun essere umano riesce a vedere la luce strano potremmo pensare ma come mai noi vediamo la luce del giorno attraverso la luce possiamo vedere tutto ciò che è stato creato è senz'altro vero ma non è vero che vediamo la luce vediamo attraverso la luce ma noi possiamo vedere soltanto dove la luce riflette ma mai la luce in se stessa è per questo che le immagini dei satelliti che ci tornano dallo spazio ci raffigurano uno spazio buio dovremmo vedere la luce siamo nel sistema solare eppure vediamo la luce solo riflessa nei pianeti questo ci dice che anche attraverso un fenomeno naturale come quello della luce vi è all'opera una realtà spirituale vi è probabilmente all'opera dio e la luce è qualcosa che più lo manifesta non è un caso che il natale è una festa della luce è la festa del solstizio d'inverno una tradizione che troviamo più che millenaria in tutti i popoli della terra non c'è popolo che non abbia fatto del solstizio d'inverno una porta attraverso cui passare per iniziarsi a un mistero di luce e questo ci riempie senz'altro di stupore ancor di più se entriamo dentro un altro aspetto del natale che noi cattolici cristiani chiamiamo epifania appunto manifestazione della luce l'epifania ha conosciuto sia in oriente sia in occidente delle storie diverse ma si sono fecondate a vicenda per noi occidentali l'epifania oggi rappresenta la rivelazione della luce che è gesù cristo alle genti ai popoli pagani possiamo dire a coloro che sono più lontani da una scelta di fede da una vita pratica in cui si partecipa alla liturgia e tutto ciò che costituisce il tessuto di una religione e questo è il significato appunto che assume in occidente ma in oriente troviamo il significato dell'inizio della vita pubblica di gesù il 6 gennaio l'oriente cristiano festeggia il battesimo di gesù cosa che noi faremo nella seconda domenica dopo natale in entrambi i casi stiamo appunto assistendo a una manifestazione della luce a qualcosa che vuole entrare in comunicazione con ciò che esiste è paradossale è qualcosa di misterioso una luce che crea perché la stessa luce che dà vita e che in qualche modo si ricrea e che in qualche modo si trova dentro ciò che crea questa luce si manifesta vuole comunicare con ciò che è opera della sua creazione ecco cos'è l'epifania entrare in contatto con un mistero di luce come possiamo sviscerarne ancora i significati radicandoci ancora una volta nella parola quella parola che ci viene consegnata nelle feste nella liturgia domenicale quale parola ci presenta la liturgia ci mette davanti una pagina del vangelo di matteo molto importante siamo nel secondo capitolo è appena apparso l'angelo in sogno a giuseppe avvertendolo di doversi spostare avvertendolo che sarebbe nato quel gesù inaspettato quella novità che avrebbe sconvolto tutta l'esistenza dell'umanità ebbene era arrivato il momento del parto si trovano in questa grotta o capanna e c'è tutto un flusso di gente che viene a rendere omaggio a quello che è stato profetizzato come il re di israele come il re delle genti il messia che avrebbe raddrizzato le sorti del mondo c'è rubens un pittore fiammingo che è vissuto a cavallo tra 1500 e 1600 che ci ha lasciato in eredità un capolavoro straordinario della sua arte lui era di famiglia nobile si era imbevuto di maestri come tiziano paolo veronese e quindi dei maestri rinascimentali che hanno un po influito nel suo modo di dipingere di fare arte in questo dipinto straordinario possiamo notare una bellissima manifestazione della luce abbiamo sulla sinistra di quest'opera la sacra famiglia di nazareth e in particolare maria che offre il proprio bimbo in adorazione a un maggio che è in adorazione prostrato ai piedi di questo bambino e troviamo sulla destra tutto un movimento di persone e personaggi che stanno accorrendo verso questa natività c'è un contrasto tra un'illuminazione artificiale rappresentata dalle torce che portano questi personaggi e la vera luce che adesso è venuta nel mondo che è quel piccolo bambino tra le mani di quella povera e semplice vergine madre in tutto questo possiamo ritrovare dei rimandi forti alla parola perché già nell'antico testamento si parlava di una gloria precisamente in isaia nel capitolo 60 di una gloria che torna a risplendere su gerusalemme in mezzo alle tenebre ecco brilla una grande luce quella profezia si sta adesso attualizzando nel cristo ecco troviamo ancora una luce che doveva manifestarsi la gloria la grazia del signore ebbene tutta racchiusa in quella piccola creatura un messaggio certo forte per l'umanità oggi un'umanità che si fa forte dei suoi mezzi della sua tecnica della ricchezza quando invece la rivelazione la parola ci viene a suggerire un altro modo di stare al mondo un modo più essenziale un modo più autentico un modo che pone nella cura nella custodia dell'altro e degli altri il senso ultimo del proprio esistere proviamo a compiere con i magi questo cammino è un cammino che avviene nella notte i magi durante la notte conoscono il dubbio conoscono la fatica i magi rappresentano la ricerca di dio di ognuno di noi i magi sono probabilmente dei sacerdoti dell'antica persia o forse sono dei teologi filosofi scienziati così come li raffigurava il mondo greco comunque sia sono delle persone animati da un inquietudine interiore che li porta a porsi le domande più importanti da dove vengo chi sono e verso dove vado ebbene questi uomini si fanno condurre da una stella cos'è la stella per il nostro cammino la stella ha sicuramente un significato astronomico perché è stato provato che nel 6 7 avanti cristo il vero anno di nascita di nostro signore un astro più luminoso una sorta di supernova generato da una particolare congiunzione astrale tra giove saturno e marte sia appunto apparsa all'orizzonte e sia stata vista persino da dei cinesi che ne attestano la presenza la testimonianza in delle loro antiche tavole tutto il cosmo annuncia il cristo ma vi è un significato ancora più bello più intenso della stella come ci suggerisce la stessa etimologia della parola desiderio sidus sideris è proprio la parola latina che esprime stella dunque ognuno di noi dentro di sé ha una stella l'uomo è desiderio ma la stella nella sua simbolicità pregnante ci dice che è un desiderio di trascendenza ognuno di noi porta un desiderio che ci spinge a uscire da noi stessi a realizzare un sogno o un progetto che non controlliamo noi che non siamo noi del tutto a costruire questa è la bellezza di un cammino ma in più questi magi si facevano forti di una sapienza di cui loro erano depositari ognuno di noi infatti porta una cultura porta un'esperienza che lo costituisce in quanto essere umano e se davvero ne apprezziamo tutta la bontà tutta la ricchezza possiamo aprirci a una ricerca di un significato ulteriore di tutto ciò che ci costituisce come esseri umani come esseri comunitari e poi troviamo il re erode e il piccolo re bambino i magi sono coinvolti in una difficile impresa di discernimento tra quello che è il vero re ovvero racchiuso nel più piccolo bambino e quello che invece è il falso re quello potente quello che ha sete di dominio e di potere che utilizza anche la religione per affermare se stesso ebbene prosegue questo cammino quello che vediamo nel quadro di rubens è soltanto l'atto finale perché dopo questa ragione che si apre alla rivelazione subentra la profezia la sacra scrittura sono appunto i sacerdoti e gli scribi che illuminano sia erode sia i magi sulla effettiva collocazione geografica dell'incarnazione del re d'israele cioè betlemme ebbene soltanto una ragione che si apre alla rivelazione può condurre l'uomo alla verità ma non finisce qui proprio come raffigurato nei quadri appena arrivano davanti il bambino i magi si prostrano e adorano e offrono i loro doni dopo aver aperto i tesori del loro cuore soltanto aprendo il nostro cuore davanti al bambino gesù possiamo compiere questo cammino di ricerca questo cammino di amore che porterà a sua volta anche noi a farci dono per ognuno dei nostri fratelli e che possa la luce del natale protrarsi espandersi per tutte le vie del nostro mondo pace e gioia grazie a tutti